Salerno e la sua provincia hanno superato quota 2 milioni di vaccinazioni effettuate e la percentuale di terze dosi è del 51% rispetto alle seconde, numeri considerevoli che tuttavia nelle prossime ore sono destinate a crescere ulteriormente. L'asla di Salerno, in considerazione anche delle nuove regole sul Green Pass, è pronta ad organizzare Open Day dedicate agli under 18. Faremo delle sedute dedicate ai ragazzi da 12 a 18 anni con Pfizer specifico. Pfizer diverso è quello per i ragazzini da 5 a 11 anni, che è un Pfizer pediatrico in una posizione diversa e si fa in una sede diversa, in un'amministrazione diversa. Noi dobbiamo essere consapevoli che il numero di persone che devono fare la terza dose è rilevante, perciò stiamo facendo uno sforzo importante per ampliare le offerte vaccinali. Ma con l'aumento dei contagi è salito in maniera esponenziale anche il numero dei tamponi effettuati. Da più parti si chiede il potenziamento dell'usca a Salerno per velocizzare i tempi di attesa, un'ipotesi al vaglio dell'asla che tuttavia ha voluto precisare alcuni aspetti. Che è vero che c'è una sola usca, ma è dotata del doppio del personale delle altre usche, per cui è come se fossero due usche. Con i tamponi in questo momento noi abbiamo un tale sovraccarico di richieste che non sempre siamo in grado di seguire e di tracciare tutti i positivi. Non bisogna dimenticare che in questo momento c'è stata una perfetta equiparazione tra tamponi molecolari e tamponi antigenici, per cui i tamponi sono validi, sono registrati in piattaforma tutti quanti, si possono fare anche gli antigenici senza problemi.